Ciao a tutti, sono Elena Di Capita e sono un'artista di Gyotaku. Parlaci un po' di questa tecnica particolare chiamata Gyotaku e spiegaci perché hai deciso di scegliere questa tecnica particolare? Gyotaku sono delle stampe di pesci veri, è una tecnica giapponese che fu introdotta all'incirca nella metà dell'Ottocento in Giappone dai pescatori che per ricordarsi delle prede più importanti decisero, inventarono questa tecnica di impressione e inizialmente, ma tutt'oggi diciamo nello stile originale, prevede l'apporto di inchiostro che si chiama Sumi in Giappone che è un inchiostro a base minerale sul pesce che poi veniva stampato con diversi tipi di carta giapponese e tutt'ora in Giappone loro ci mettono ancora le misure, quanto misura, quanto misurava, perché poi si mangiano ovviamente, il peso, il costo del pesce, tutte le informazioni. E poi da lì è nata una corrente artistica ancora quasi sconosciuta in Italia e in Europa in generale. E guardandomi qua intorno nel tuo studio non hai limiti tra virgolette di grandezza poi con questa tecnica? Eh sì, il limite alla fine è il supporto. Il supporto. Quindi... Che per te cambia o è sempre lo stesso? No, no, io uso sia una tipologia di carta giapponese che si chiama Unryu che sarebbe la nostra carta di riso e poi la carta Kozo che è una carta stupenda, fatta a mano in Giappone, anche Unryu è fatta, può essere fatta a mano ma io la prendo industrialmente invece poi ne prendo dei rotoli di carta Kozo che è questa qua, che è ottima anche per la scrittura e poi uso supporti anche di stoffe come il cotone, la seta, mi piace tantissimo la seta, il lino che dà un effetto più grezzo quasi da sindone e quindi anche gli oscuranti per le tende sono molto belli, stavano molto bene. Hai una varietà diciamo di supporto e non ho fatto meno di notare che in ogni opera presenta una sorta di ideogramma? Un timbro, sì, è la firma che quello l'ho ideato io, è una gomma incisa e sono i miei iniziali e un sole, sembra banale però in realtà ci vedevo molto un incontro tra Levante e Giotaku Levante nel senso Levante che è una tecnica orientale che è giapponese e poi noi siamo nel Levante e Ligure, quindi tutto c'entra Giotaku Levante Giotaku Levante? Come in storia Giotaku Levante è bellissimo il gaming Giotaku Levante è bellissimo il gaming, gli user è quello Giotaku Levante, bellissimo Sì, ti piace? Cazzo, è super vero Yeah, grazie, è stata bravissima veramente Sì, vedete vi faccio un sacco di studia mentale Giotaku Levante